I migranti delle Marche sono sempre meno e sempre più poveri e il dato che emerge dal dossier Immigrazione 2022 presentato dalla CGL Marche la regione assente e non attua politiche di integrazione la denuncia del sindacato. Si riaccende il dibattito in regione sulla somministrazione della RU486. L'assessore alla sanità Salta Martini fa dietro fronte e garantisce la disponibilità anche nei consultori. La consigliera del Partito Democratico Bora vigileremo. Pensioni già povere e rosicchiate dall'inflazione dai rincari delle bollette. Una situazione drammatica, quella che stanno raccogliendo i sindacati su tutto il territorio delle Marche. Se c'è una fascia più di altra intenzione è proprio quella degli anziani. Amatelica le celebrazioni. Per ricordare Enrico Mattei, il presidente dell'ENI a 60 anni dalla sua morte, avvenuta il 27 ottobre 1962 a Bascapè quando il suo aero salto in aria a causa di un'esplosione. Una figura da tramandare ai giovani. Buonasera da Etg Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di Etv. In apertura parliamo di immigrazione perché gli stranieri nelle Marche sono sempre meno e sono anche poco occupati. La fotografia la restituzione il dossier Immigrazione 2022 che è stato presentato dalla CGL Marche che attacca la regione e dice poco presente nelle politiche di integrazione. Sentiamo Giacomo Giampieri. I migranti nelle Marche sono sempre meno, più poveri e privi di opportunità lavorative. È il quadro allarmante che emerge dal dossier statistico Immigrazione 2022 del centro IDOS. In regione gli stranieri sono oltre 127.000, l'8,6% della popolazione marchigiana. La provincia più rappresentata è Fermo, 9,7%, quella meno Ascoli Piceno, 6,7%. In provincia di Ancona vivono più di 40.000 migranti. Complici alla guerra c'è stato un notevole incremento dell'arrivo degli ucraini. I più rappresentati tra i comunitari restano i romeni, tra i non comunitari gli albanesi. In prevalenza i migranti hanno il volto delle donne e un'età compresa tra 30 e 44 anni. Generalmente vi sono difficoltà oggettive per l'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro. In seguito alla pandemia chiaramente sono stati coloro che hanno avuto più problemi nel mercato del lavoro. Quindi questo è il dato principale e poi sì anche rispetto ai redditi, quindi hanno risentito maggiormente rispetto agli italiani. C'è una grandissima presenza nei servizi alla persona, poi abbiamo il settore nell'industria e anche molto importante un settore su cui dovremmo fare sempre più luce è quello della logistica, dove stavendo fuori il problema dei formi di sfruttamento, su cui la magistratura in alcuni settori di fortuna è già intervenuta, però bisognerebbe indagare meglio. Perché anche se si è fatto molto e si sta facendo anche tanto e si dovrà fare ancora tantissimo nel mondo dell'agricoltura, lo sfruttamento caporalato, barra poi sono discriminazioni, sicuramente c'è ancora molto da fare nel settore della logistica. Degli occupati marchigiani l'8,9% sono migranti, altro dato inflessione che desta preoccupazioni. I migranti nelle Marche hanno retribuzioni medie lorde sui 12 mila euro, 28% più basse dei dipendenti privati italiani. Quindi ecco, continua ad esserci un'accoglienza limitata, un'integrazione non corretta e una segregazione da tutti i punti di vista occupazionali. Quindi una puntura alla Regione Marche. Non c'è mai stato un confronto con la Regione Marche su questo tema, non abbiamo idea se non degli interventi spot che leggiamo dalle DGR che vengono fatti per le accoglienze o le emergenze, di che tipo di integrazione di politiche si vogliano mettere in campo. Quindi noi abbiamo delle idee precise, che sono la valorizzazione delle competenze, percorsi di inserimento, esattamente come per tutti i disoccupati, a prescindere dalla loro provenienza. È un mondo del lavoro che apra opportunità di crescita, di apprendimento, di aggiornamento delle competenze e per i lavoratori stranieri soprattutto di riconoscimento delle competenze che hanno acquisito nei loro paesi. La pagina ora della cronaca, oltre a molestare la sua ex compagna, ne aveva diffuso illecitamente delle immagini sessualmente esplicite. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Repubblica Sicurezza di Osimo hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Ancona del divieto di avvicinamento a carico di un italiano. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona sono partite dalla denuncia sporta dalla donna disperata per i ricatti subiti dall'ex fidanzato che la minacciava di mandare a parenti e conoscenti sue foto esplicite se non avesse accettato di rincontrarlo dopo l'interruzione per volontà della vittima della loro relazione sentimentale. E sempre per la cronaca, nei giorni scorsi i militari della compagnia dei carabinieri di Monte Giorgio hanno denunciato a piede libero un uomo e una donna, lui di circa 30 anni, lei di 40, stranieri entrambi e di Napoli. Autori di una truffa online ad anno di un uomo di circa 60 anni di Amandola, sempre a Monte Giorgio, sempre i carabinieri a conclusione e di approfonditi accertamenti hanno identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di circa 40 anni di Bari. Anche in questo caso nel mese di settembre scorso l'uomo con il pretesto di vendere online quattro cerchi in lega aveva troffato un giovane di Magliano di Tenna. La pagina ora della sanità perché si riaccende nelle marche il dibattito sulla RU486, meglio conosciuta come pillola abortiva. Con il dietro fronte da una parte dell'assessore alla sanità Filippo Salta Martini che dice la pillola sarà a disposizione anche nei consultori e la consigliera del partito democratico Manuela Bora che dice vigileremo. Sentiamo. La nostra regione garantisce a tutte le donne il diritto, il potere di interrompere la gravidanza secondo le norme. E tra queste anche la prescrizione della pillola RU486 fino alla nona settimana di gravidanza nei consultori come previsto dalla direttiva del Ministero della Salute del 12 agosto 2020. Così l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini risponde all'interpellanza della consigliera regionale del PD Manuela Bora. Una risposta che le stessa ha definito una folgorazione sulla via di Damasco ricordando come solo a gennaio 2021 l'assessore sostenesse che la pillola abortiva non sarebbe stata data nei consultori perché le linee guida non sono vincolanti. Una posizione che però Salta Martini non riconosce. Tutta la critica secondo cui la regione avrebbe dovuto recepire un atto interno, questa circolare, è del tutto inesistente. I principi in materia di sanità sono attribuiti allo Stato, dalla Costituzione, quindi non c'era bisogno di nessun atto. Noi non impediamo assolutamente nulla. I medici mi dicono che l'aborto farmaceutico, l'interruzione farmaceutica a una settimana può comportare dei rischi per la donna e quindi preferiscono, alcuni di questi medici, l'interruzione con l'RU 486 in ospedale. Stiamo organizzando un tour nei consultori per vedere allora se effettivamente ciò che ha detto la Sestore e Salta Martini è vero e quindi che nella nostra regione la circolare del Ministero della Salute, come lui ha detto, è self-executive, quindi si applica in automatico. Se così non fosse dovrà spiegare a tutti perché non è stato capace di renderla operativa. Nelle Marche nel 2022 sono state effettuate 932 interruzioni di gravidanza, di cui 108 farmacologiche. Nel 2021 sono state complessivamente 1.254, di cui 162 farmacologiche e nel 2020 erano state 1.477, di cui 141 farmacologiche. Numeri che non segnalo dunque notevoli differenze, specialmente se si pensa che fino a ottobre 2020 la regione era ancora guidata da una giunta di centro-sinistra. A far riflettere però e ad aprire un altro tema, quello dei ginecologi obiettori di coscienza è la distribuzione dei dati con il buco nero che si evidenzia nel Fermano, dove la totalità dei medici obiettori costringe le donne che scelgono di interrompere una gravidanza a spostarsi negli ospedali maceratesi. Senza considerare che sempre stando i dati aggiornati al 2020, gli ospedali che registrano meno obiettori tra i ginecologi sono quelli di Urbino e San Benedetto del Tronto, dove sono comunque 4 su 10, quasi la metà. Prendiamo ora del sisma del 2016, delle scosse di fine ottobre che contribuirono ad allargare ancora di più il cratere del centro Italia, il punto sei anni dopo sulla ricostruzione. Il mostro si era assopito solo per qualche mese dopo quella prima scossa del 24 agosto che aveva messo in ginocchio Arquata del Tronto, Accumoli e Amatrice, 299 vittime. Il 26 ottobre 2 scosse una prima di cena, l'altra da 5.9 alle 21.18. Fu il terremoto delle tavole apparecchiate e della grande fuga in un inferno di polvere e pioggia. L'epicentro è tra i comuni di Visso, Ustite e Castel Sant'Angelo sul Nera. L'appennino umbro marchigiano cambia per sempre poi. Il 30 ottobre, domenica mattina, presto scossa da 6.5. Ci sono danni e crolli anche nelle località circostanti. A Camerino un campanile si abbatte su una casa. Al momento del crollo non c'è nessuno. Le studentesse universitarie che erano lì in affitto erano scappate dopo la prima scossa del 26 sera. Quelle di fine ottobre sono stati i terremoti della devastazione totale, ma con un'immensa consolazione di non contare vittime. Il cratere si allarga a quattro regioni, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, 138 comuni, un danneggiamento da più di 30 miliardi di euro, più di 70.000 edifici lesionati. Stando agli ultimi dati, sono in tutto il cratere, metà rappresentato dalle Marche, circa 8.000 persone nelle casette, le SAE, le soluzioni abitative di emergenza e più di 20.000 persone che ricevono il CAS e il contributo di autonoma sistemazione. In mezzo una ricostruzione tra mille inciampi, lo stallo dei primi anni, poi l'accelerazione e poi di nuovo la frenata, il Covid, il rincaro dei materiali, i bonus edilizi che hanno allontanato ditte lavoratori dal cosiddetto cratere. Una storia senza simboli mediatici chiari e netti, quella del centro Italia. Cronache che dopo sei anni a tratti si perdono nell'agenda delle notizie, forse proprio perché in Italia un terremoto così grande ed esteso nel cuore delle montagne non c'era mai stato. E questa sera, come ogni giovedì alle 21, puntata speciale di Sibilla, le voci della ricostruzione su ETV Marche ma anche sul canale 19 in Umbria e 14 in Abruzzo appunto per il sesto tragico anniversario del terremoto dei record. Cambiamo ancora argomento, ci occupiamo di carobollette ed inflazione perché poi alla fine a essere più preoccupati e in difficoltà sono le fasce fragili, quelle degli anziani, dei pensionati. Sentiamo. La signora Marisa, che naturalmente è un nome così, che mi invento in questo momento, ma la testimonianza è vera è stata, una visita oculistica, tempi lunghissimi, con l'impegnativa, decide di farla in libera professione, cioè di andare da un professionista. E voi capite, su una pensione di 750 euro di questa signora, visita specialistica 150 euro, è chiaro che abbiamo tagliato, questa è la testimonianza che noi raccogliamo tutti i giorni. Pensioni già povere, rosicchiate dall'inflazione e dai rincari delle bollette, una situazione drammatica quella che stanno raccogliendo i sindacati su tutto il territorio delle Marche, perché se c'è una fascia più di altre, intenzione è proprio quella degli anziani, dei fragili, costretti a tagliare nelle spese pur di ottemperare agli obblighi e garantirsi comunque la quotidianità di sempre districandosi, tra l'assistenza sanitaria, le spese per la casa e l'alimentazione. Se noi pensiamo che oltre il 60% delle pensioni nelle Marche è sotto ai 1000 euro e c'è una grande percentuale anche che hanno solo l'assegno sociale, quindi sto parlando di 600 euro, la paura è che con l'inverno alle porte o ti riscaldi o mangi. Sull'alimentazione c'è stato un fortissimo incremento, al di là dell'8,9% che si dice, ma l'inflazione è ben più alta su questi prodotti di largo consumo. Quali proposte, quali misure si potrebbero mettere in campo? Noi chiediamo che da gennaio vengono rivalutate le pensioni rispetto alle attuali normative. Io non vorrei che ancora una volta si tosa, si taglia sui pensionati. È una situazione che si somma a una non adeguata risposta da parte della sanità, per esempio. I pensionati spendono molto per visite specialistiche sulla sanità, perché la sanità non risponde in tempi adeguati. I 60 anni dalla morte di Enrico Mattei, le celebrazioni a Matelica, appunto per ricordare il suo cittadino più illustre. Una figura da tramandare ai giovani, tra l'altro anche il messaggio del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. Dalle Marche all'Italia al mondo e poi di nuovo alle Marche, le sue Marche che non dimenticava mai di ricordare. Matelica celebra oggi, nel 60esimo anniversario della sua morte, il suo cittadino più illustre, Enrico Mattei. Nato nel 1906 ad Acqualagna e cresciuto appunto a Matelica. Io mi sono sempre stupito di quante volte Mattei nei suoi discorsi, anche nelle conversazioni private, abbia citato Matelica. Per lui la giovinezza passata a Matelica era la materia che gli dava l'energia che l'ha portato a essere un genio, un fondatore della storia dell'Italia repubblicana. Il miracolo di Mattei inizia nel 1945, quando viene nominato dal governo liquidatore dell'Agip. Invece di seguire le direttive e chiudere la società, Mattei riorganizza l'azienda e fonda Leni, dando vita al miracolo economico italiano post bellico e stringendo accordi e amicizie ancora oggi ben salde. Come abbiamo visto oggi, ci sono i rappresentanti del popolo algerino che lo stimano tantissimo perché è riuscito anche a dare una mano a loro per poter essere liberi, riconquistare la libertà dal colonialismo e ci danno il giusto aiuto perché oggi, come oggi, con la crisi energetica che abbiamo, con la guerra che c'è in Ucraina, loro ci stanno dando una grossa mano. Ricordato anche dalla nuova Premier Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento, Enrico Mattei, che parlava di energie rinnovabili già nel 1958, rappresenta oggi una figura più attuale che mai. In questo momento, in maniera particolare, cogliamo l'importanza delle politiche e delle strategie energetiche fondamentali per le famiglie, per la crescita dell'Italia e dell'Europa. Il metodo Mattei è questo che oggi dobbiamo insegnare ai giovani e tramandare, senza dimenticare mai il sacrificio enorme che Mattei ha offerto a questo Paese. Che Mattei sia stato ucciso, mi sembra che sia molto chiaro. Mattei è l'esempio che ci ha lasciato, da far capire ai ragazzi che tutti possono diventare dei piccoli Mattei, basta la volontà. Il progetto del comune di Falconara, antisversamenti in mare, la maggior parte dei bagnini è a favore di una soluzione che tuteli la stagione estiva senza più di vieti di balneazione, contrario, oltre alle opposizioni in consiglio comunale, anche il presidente del consorzio dei bagnini Falcomar, Alessandro Filippetti, o meglio ex, visto che ha annunciato le proprie dimissioni. Abbiamo ricevuto in diretta quest'oggi il messaggio di Alessandro Filippetti, lo rileggo perché questa è una notizia davvero di pochi minuti fa. Buongiorno, in riferimento all'intervista al sindaco Signorini sugli sversamenti a mare vorrei specificare che ho espresso la totale contrarietà a qualsiasi condotta in spiaggia, però per rispetto ai colleghi che la pensano diversamente ho rassegnato le dimissioni e motiverò le mie preoccupazioni nelle sedi opportune. Cordiali saluti dall'ex presidente del consorzio Falcomar, Alessandro Filippetti. Intervenendo stamattina a Buongiorno e TV, Alessandro Filippetti ha annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni. Il rappresentante della quasi totalità degli operatori balneari di Falconara, riuniti nel consorzio Falcomar, ha bocciato senza appello l'ipotesi della condotta in spiaggia anti-sversamenti. Così aveva fatto in sede di riunione col comune, ha spiegato e così ha fatto anche dopo la commissione dove ha preso quota l'ultima ipotesi progettuale suggerita da Viva Servizi. La notizia di Filippetti ha creato rumore, molto, in città e in spiaggia, soprattutto in considerazione che il suo mandato durava da quasi otto anni e lo stesso, almeno al momento, sembra non voler tornare indietro perché dichiaratamente contrario all'opera di cementificazione sul litorale. Un'opera che divide, specie tra i bagnini e ovviamente anche in politica. Se la Giunta Signorini ha lasciato intendere di aver apprezzato l'idea, l'opposizione ha criticato duramente un'ulteriore rivisitazione del progetto. Ed ora ci occupiamo invece di risparmi, visto che in questo periodo si sta parlando troppo e tanto di rincari. Una soluzione è il mezzo pubblico alternativo all'auto. Secondo Conerobus, il risparmio arriverebbe fino a 2000 euro l'anno. Sono stati due anni veramente molto difficili perché appunto da untori tante persone non hanno più utilizzato il mezzo pubblico anche per quel motivo. Ma poi sto fatto che foste voi ad agevolare il contagio è stato sperimentato, dimostrato scientificamente? Scientificamente è stato dimostrato da uno studio tedesco che in effetti non c'erano problemi dentro gli autobus. Però siccome è uscito prima una notizia sul giornale che invece molto probabilmente ci saranno problemi sugli autobus, da lì tantam ha portato che c'erano gli untori e erano gli autobus. Ma economicamente avete fatto una stima di quanto si risparmia tra il prendere la macchina e andare con l'autobus in soldoni? Noi abbiamo preso le tariffe ACI e quindi le abbiamo applicate su alcuni percorsi che normalmente i nostri utenti fanno e per vedere appunto quali erano queste differenze dei costi. E quindi sia per servizi urbani sia per il servizio extraurbano è stato fatto questo con diverse tipologie di macchine perché naturalmente ci sono chi ha una macchina inferiore a 1000 di cilindrata piuttosto che a una 2000 di cilindrata. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di statistiche che abbiamo messo anche a disposizione sul nostro sito, sulle nostre piattaforme, proprio perché un esempio, una macchina media, quindi niente di particolare, la cilindrata di 1200, abbiamo un costo annuale complessivo del mezzo di 2376 euro per fare 12 chilometri e questo può succedere, 12 chilometri per arrivare a portare i figli a scuola o andare al lavoro. Mentre il nostro abbonamento è 432 euro, quindi andiamo a 1944 euro all'anno di risparmio. All'anno di risparmio. Quel bonus da 60 è finito? Non ci sono più soldi? No, ci sono ancora e quindi qualcuno ne sta ancora usufruendo. Questo ha permesso l'incremento degli abbonamenti perché sicuramente c'è l'effetto del bonus. Quello che c'è anche da segnalare secondo me perché abbiamo dato un segno di civiltà, perché le persone, è vero che hanno fatto le file, hanno fatto le file anche per ore, qualcuno si è mosso dalla provincia ed è venuto ad Ancona per fare questo abbonamento, ma sempre con molta dignità, con molta serietà e non c'è stata mai agitazione. Abbiamo già anticipato in precedenza gli appuntamenti per la serata su ETV Marca, alle 21 Sibilla le voci della ricostruzione, parleremo di post-sisma e per l'appunto di ricostruzione dalle 21 alle 22 invece la storia del filo d'oro di Osimo attraverso i volontari, le famiglie e gli ospiti che nel corso di oltre 40 anni hanno avuto assistenza, cura e affetto. Appuntamento con Maurizio Socci, questa sera ore 22 punti di vista, la storia della Lega del filo d'oro ad Osimo. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo invece che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie dunque per l'attenzione e l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.